Sollevato un enorme polverone questo della pubblicità di cannabis sull'autobus dell'EAV che conduceva gli studenti a scuola. Luigi Pisani, da autista, hai sentito malumori, persone che si lamentavano di questa cosa? Sì, sì, ho sentito, ho seguito e ho visto anche l'intervento del nostro presidente De Gregorio che io non sono d'accordo perché paventava l'ipotesi di non farli uscire più sulle corse scolastiche perché potesse turbare non so chi cosa. Io dico una cosa, noi qua si parla di cambiamento, si parla di uniformarci a quelle che sono le direttive. Voglio dire, innanzitutto questa è un'attività che ha avuto una pubblicità disastrosa senza averne colpe. Più, voglio dire, la California ha triplicato, legalizzando la cannabis, ha triplicato il suo budget al punto che ha costretto gli Stati Uniti d'America a rivedere le norme e le leggi. Ha fatto sì che la delinquenza diminuisse del 30%. In tutta Europa è legale. Non capisco, Ischia, dove si vuole collegare con queste mentalità retrogradi che dicono che la cannabis o la pubblicità della cannabis può turbare un bambino. Sono ben altri i problemi che possono turbare i bambini. La violenza domestica, i genitori che non sono presenti a causa del loro andare e venire per le problematiche quotidiane. Io non trovo giusto che si debba togliere una pubblicità sull'autobus solo perché rappresenta la cannabis. Mi risulta anche, tra l'altro, dalla risposta dell'azienda in questione, che non ha il principio attivo. Quindi non è nemmeno cannabis che sballa, come si suol dire. Però il nome, così come è scritto e non è precisato altro, potrebbe indurre a pensare, sospettare, dubitare. Immagina adesso tanti genitori che hanno storto il naso di fronte a questa iscrizione con i bambini, loro figli, all'interno dell'autobus, in giro per l'isola. Non la capisco. Io la vedo come una pubblicità come tante altre. Anzi, molto migliore di quello che c'era prima. Per esempio, un mese fa facevamo la pubblicità della pala meccanica o del carrocru di Arzano. E mi sembra assurdo. Io pretenderei che sui avutobus ci sia la pubblicità del Castello Reconese, di Sant'Angelo, del Soccorso. Sono cartoline che sono specchi per tutto il mondo. E invece devo vedere la pala meccanica di una ditta addirittura poi di Napoli. Ma ben venga che sia anche la Cannabis. Io non ci trovo nulla di assurdo. E correlare la pubblicità di Cannabis a un potabile malumore del bambino. Per me è mentalità da terzo mondo.